A me mi torturano, ininterrottamente, facciamo la foto, fammi l'autogosso, a me sarà anche che ho un... mi capita anche di fare dei porno, per cui mi riconosco anche i dettagli, ma è evidente, diciamo, la carità. Ebbè, c'è. Si fai una foto? Oh no, non l'avete capito, siete voi che dovete fare la foto a me? Va bene? Non ti tocca, dai, magari si spinge. Così? Sì? Sì. Grazie, eh. Sì. 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 Dai! Dobbiamo fare lo sketch del lunedì. Sketch del lunedì. Sketch del lunedì. Andiamo dentro l'andata e parliamo. La madre è quello di lui, invece. Però dobbiamo trovare chi... Eh, ma adesso lo troviamo qui. Adesso c'è il castro. No, no, l'ha voluto a prendere. Prendete, dovremmo. Posso fare una foto? Mi mettiamo in polta per farci vedere la mia amica. Non ho capito niente. Allora, dovevo farla questa foto? Eh, no. Invece mettiamo in polta, eh? E tu dici, no, capite? E io voglio dire che voi fate la foto a me. Sì, 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 sì. Eh, 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 eh. Ecco. Sì, sì, sì.